Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore oggi si manifesta particolarmente nella Chiesa con la celebrazione della festa del grande Maestro di Dottrina, Sant'Agostino di Ippona, che tutti conosciamo, almeno in parte, un personaggio che ha illuminato la Chiesa del suo tempo e durante i secoli, per la profondità dei suoi insegnamenti, per la rigidità dei suoi sistemi di istruzione, è rimasto tra i maestri più prolifici della storia della Chiesa. La sua vita, naturalmente, non era cominciata con un comportamento che fosse adeguato alle parole del Vangelo. Sua madre, Monica, l'aveva estruita nella fede cristiana, ma lui, molto irrequieto, ricercava, entro anche tra i manichei, per ricercare la verità, qualcosa che lo appagasse nell'interno. Ma era anche disturbato da passioni. Suo padre non condivideva l'insegnamento dato da sua madre, e lui, preso anche dall'ambizione dei suoi studi, del successo nella vita, del successo in mezzo alla società, particolarmente debole negli affetti, nel lasciarsi rimorchiare da passioni, e divenne un grande retore, un maestro di eloquenza, fino a raggiungere le più alte vette, andando a Milano, alla corte imperiale, dove fece successo. E lì, proprio a Milano, si incontrò con un grande maestro della fede cristiana, Sant'Ambrogio, che è ritenuto uno dei padri della Chiesa occidentale, e fu affascinato dai suoi insegnamenti. ma faceva fatica, però, a cambiare vita. E lui stesso racconta nel libro delle confessioni, che voleva cambiare vita, ma non ce la faceva. E un giorno, parlando con un suo amico, in un giardino, espresse la sua difficoltà, e si allontanò, commosso, è dispiaciuto, per il suo insuccesso, quando sentì una voce che cantava, diceva, prendi e leggi, prendi e leggi, dice, Sant'Agostino, non so se fosse voce di donna o di bambino, lui andò a prendere le lettere di San Paolo, e trovò, un passo, che diceva, che era tempo di finirla, con le imporità, con le grapole, con i disordini, e di camminare nella rettitudine della vita, e lui, toccato da queste parole, si sentì trasformato dentro. Il suo cambiamento avvenne proprio per la granza che la prendeva nel più profondo dell'anima, e allora decise di farsi battezzare, ed entrò nella chiesa, e con alcuni amici, decise di tornare in Africa, per avviare una vita di ordine, lui nel frattempo era stata in relazione con una donna, e ha avuto anche un bambino, un figlio, di cui poi non parlerà quasi più, e si dedica alla vita monastica, ma è proprio lì che il Vescovo di Ippona lo elegge suo collaboratore, ed è il primo Vescovo ausiliario della storia, se vogliamo, ma prima di arrivare in Africa, a Ostia, sua madre muore felice, che suo figlio è arrivato alla fede, è arrivato alla salvezza. E gli insegnamenti di Sant'Agostino, ancora oggi, fratelli, sono tra i più illuminanti che noi abbiamo, nella storia della chiesa, poi come pastore, produsse tante opere, che riguardano appunto la vita pratica, della chiesa, della vita cristiana, e per tantissimi secoli è stato, diciamo, il maestro più seguito, più interpellato per la vastità degli argomenti che aveva trattato. E come Vescovo si dedicò all'evangelizzazione del popolo, alla formazione dei sacerdoti, all'annuncio del Vangelo. Era consultata anche da altri Vescovi della Chiesa per la sua profondità nell'istruzione. Oggi la Chiesa, quindi, lo ricorda e gioisce con Lui. E noi vogliamo fare nostro il salmo nella messa di oggi che dice cantate al Signore un canto nuovo. Sant'Agostino ha potuto cantare. Lui stesso dice che chi canta prega due volte ma si canta di gioia e Lui insegna anche a cantare. C'è un passo stupendo che noi leggiamo nel breviario il 22 di novembre festa di Santa Cecilia cantate al Signore con arte e insegna che quando si canta si intona qualcosa di conosciuto ma quando il cuore è sacio trabocca per l'abbondanza della grazia si inventa si inventa un suono si emettono gemiti sonori la letizia esce dall'anima questo è il canto che Dio vuole quella che sorge dal profondo dell'anima che non è musicabile in quanto è espressione della profondità dell'anima ecco cantate al Signore dice il salmista oggi il salmista interpreta molto bene quanto Sant'Agostino ha sperimentato nella sua vita la letizia che gli ha toccato l'anima quanto ha incontrato Gesù la sua loda nell'assemblea dei fedeli gioisca Israele nel suo creatore esultino nel loro re i figli di Sion lodi nel suo nome con danze con tamburelle e cedere di cantino inni il Signore ama il suo popolo e incurrono i poveri di vittoria e isultino i fedeli nella gloria facciano le feste sui loro giacigli le lodi di Dio sulla loro bocca guardate come il salmista non parla dell'anianze non parla di mormorazioni non parla di critiche ma di gioia Dio è gioia e bisogna accoglierlo nella gioia perciò isultino i fedeli nella gloria facciano feste sui loro giacigli le lodi di Dio sulla loro bocca questo è un onore per tutti i suoi fedeli e oggi la Chiesa inizia anche la festa della perdonanza San Celestino V quando divenne Papa volle dare l'indulgenza plenaria quando avrebbero visitato la Basilica di Collemaggio che fossero pentiti che fossero vogliono estendere l'indulgenza anche ai poveri a coloro che non potevano dare offerte per rinnovare la fede dei cristiani e all'Aquila oggi e domani dai vesperi di oggi ai vesperi di domani è congessa l'indulgenza plenaria a quando visitano e pregono nella Basilica di Collemaggio fu nelle chiese assegnate dal vescovo dell'Aquila e dei vescovi abruzzesi e tanti partecipino a questa festa antica che ha voluto dare fiducia ai cristiani e alla Chiesa in tempi molto difficili in tempi di invasioni di guerre di crociate e tanti avevano bisogno di questa remissione dei peccati generosa cosa che avviene e quando il Signore perdona c'è l'azione dello Spirito Santo che agisce nella prima lettura di oggi presa da San Paolo dalla prima lettera a te saranno escesi l'Apostolo dice tra l'altro rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presente l'opera della vostra fede la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza del Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio Padre nostro sappiamo bene fratelli amati da Dio che siete stati scelti da Lui e il nostro Vangelo non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola ma anche con la potenza dello Spirito Santo cioè con la potenza che prende il cuore piega le nostre resistenze fa entrare l'amore di Dio nella nostra vita a questo fa rinvanimento l'Apostolo Paolo e anche oggi avviene spesso che quando il Vangelo viene annunciato una potenza tocca la profondità dell'anima tanti scoppiano a piangere perché il loro cuore si indenerisce e le resistenze che sono nel profondo dell'anima si arrendano Signore Gesù rinnova oggi in tutta la Tua Chiesa anzi tu sempre opri con potenza di Spirito Santo apri il cuore di tutta la Tua Chiesa alla Tua Parola e come tu stesso hai detto se qualcuno ascolterà queste mie parole il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo di mura presse di Lui invade Signore il cuore di tutti oggi con la potenza dello Spirito Santo piega la resistenza rimuove gli ostacoli caccia via gli spiriti del male dono piena libertà a tutte le anime di servirti con generosità e amore a Te gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen Vergine Santissima che sei stata avvolta dalla potenza dello Spirito Santo che hai concepito nel Tuo Grimbo il Figlio di Dio fatto uomo tu che conosci questa potenza intercetti per noi perché tutti siamo avvolti e siamo piegati all'amore di Gesù senza più resistenze senza più ostacoli senza più tendentamenti o dubbi ma totalmente abbandonati a Lui gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e questa grazia questa potenza dello Spirito di Gesù fratelli inondi oggi i vostri cuori e in primo fortemente di voi sigillo dello Spirito Santo perché in ogni cosa siate riconosciuti discepoli di Gesù nell'amore e nella potenza dell'amore Amen